Un gioco? ...dalle banconote ti uuuun, salta fuori il serpente che gli mangia la faccia e che Poi la maschera di The Mask, sprumeggiante! E la mano di Nightmare, pelle due coltelli, guante due coltelli! Io vorrei la pelata di Rosario di 105, ragazzi ma non è in commercio, è un esempio unico! La moto di Steve McQueen nella Grande Fuga, non era una Triumph? La moto di Steve McQueen nella Grande Fuga, credo sì, una Triumph verde, mi sbaglio? Non lo so, però lo scultura della gamba era Garpez! Ma finto! Un Garpez! Questa è di Garpez! Allora la moto di Steve McQueen in teoria era una Triumph Trophy TR6 Cioè magari non si leggeva così, però io non lo so, sono ignorante! Immagino che continueremo a scrivere fino a mezzanotte! E beh, ma perché è un argomento ragazzi, allora l'intimo di Moana... Beh, non c'è più! La casa di Tony Stark, ma ve la ricordate? No! In... in... come si dice Iron? Iron... Iron Man! Iron Man! Al contrario, Iron Man! Sì, Iron Man, sì! Che poi anche quella viene distrutta tipo 500 volte! Io ho anche l'assistente di Tony Stark! Eh, non lo so! La guinetta, la guinetta patrol è in Chiari! Pronto, Fedez! Ti voglio parlare di un progetto, ho avuto un'idea! Ti voglio parlare con te Chiara quando avete cinque minuti! Ti voglio parlare di un progetto, ho avuto un progetto, ho avuto un progetto, ho avuto un progetto! Ti voglio parlare di un progetto, ho avuto un progetto, ho avuto un progetto, ho avuto un progetto! Ti voglio parlare di un progetto, ho avuto un progetto, ho avuto un progetto, ho avuto un progetto, ho avuto un progetto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.